ciao ragazzi salve a tutti e benvenuti ad autopolis oggi vi propongo un post gara del gran premio di imola della formula 1 ed è vittoria di louis hamilton che vince per la 93esima volta in carriera 113esima vittoria invece per la mercedes in formula 1 oggi tra l'altro molti record sono stati eguagliati o battuti da louis e la mercedes per esempio oggi louis ha eguagliato il record di schumacher con la ferrari per il maggior numero di vittorie ottenute da un pilota sulla stessa squadra con ben 72 vittorie per mercedes invece settimo campionato del mondo di costruttori in formula 1 7 campionati del mondo consecutivi e podio numero 500 come motorista dentro la massima categoria automobilistica per quanto riguarda la gara invece beh ragazzi è stato tutto sommato una bella gara con pochi sorpassi ma con sorpassi di tantissima qualità peccato per gas lee che ha fatto una partenza stupenda ma è stato costretto al ritiro per un guasto alla pompa dell'acqua della sua power unit honda per i piloti mercedes invece gara senza troppi intoppi nemmeno la partenza poco ideale di louis o la rottura del fondo di bottas hanno privato il team di brackley di 1 1 e 2 dispiace solo per restappen che secondo tv8 ha avuto una foratura anche se secondo max la gomma era semplicemente esplosa da sola di nuovo pirelli sembra aver avuto qualche problemino con le gomme perché oggi le heart erano più veloci delle medie per quanto riguarda la ferrari la strategia e le gomme hanno privato la rossa di un risultato molto molto migliore peccato perché oggi shards poteva andare a podio mentre che permette il piazzarsi dentro la top 10 era possibilissimo se non fosse stato solo per quel dannato pit stop per ultimo non mi rimane che elogiare la gran prestazione di kiviat e ricciardo così come dirvi che il pilota del giorno è stato kimi raikkonen mentre che il giro più veloce se l'ha portato a casa louis hamilton ragazzi senz'altro vi propongo i risultati prima posizione come detto per louis hamilton che ha fatto due pit stop seconda posizione per valteri bottas terza posizione per daniel ricciardo quarta posizione per daniel kiviat quinta posizione per shards leclerc sesta posizione per peres che poteva fare molto meglio settima posizione per sainz ottava per norris nona per raikkonen grandissimo kimi decima posizione per giovinassi anche giovi grandissimo undicesima posizione per l'antifi dodicesima per vetel tredicesima per stroll quattordicesima posizione per gros gian quindicesima per alex albon che ha fatto questo testa coda e direi ragazzi che la vedo molto dura per albon per il prossimo anno vediamo cosa accade si sono ritirati di questa gara il povero john russell che ha fatto un errore quando stava cercando di riscaldare le gomme max bertappen che ha avuto questa foratura kevin magnusen con un problema al cambio e stevano con e pierre gasli per quanto riguarda il campionato del mondo di piloti invece prima posizione per louis hamilton con 282 punti praticamente a 100 in più rispetto a valteri bottas che ha 197 punti terza posizione per max bertappen con 162 unità quarta posizione per daniel ricciardo con 95 punti quinta posizione per charles leclerc con 85 sesta posizione per peres con 82 settima posizione per lando norris con 69 punti sebastian betel quattordicesima posizione 18 punti una stagione da incubo per se per quanto riguarda il campionato costruttori campiona del mondo ancora un'altra volta la mercedes con 479 punti seconda posizione in campionato red bull con 226 punti terza posizione la renault f1 con 135 punti quarta posizione la mclaren con 134 punti quinta posizione la racing point con 126 sesta posizione la ferrari con 103 punti settima invece l'alfa tauri ottava l'alfa romeo non alla haas ultima posizione la william senza un punto beh senz'altro chiudo ma prima mi propongo le dichiarazioni ed inizio con charles leclerc avrei firmato per il quinto posto avevamo tanti punti interrogativi a inizio gara sulla durata delle gomme soft e invece ci siamo comportati bene al punto che non so perché ci siamo fermati così presto ne avevo ancora ad ogni modo stiamo progredendo in griglia dopo sebastian betel non era il risultato che volevamo e probabilmente che meritavamo oggi però in gara le sensazioni sono sembrate molto migliori dopo toto wolf sette titoli consecutivi non amo parlare dei numeri ma questo risultato è davvero qualcosa di cui andare fieri abbiamo un gruppo che lavora insieme in modo fantastico siamo molto uniti e cerchiamo di spingere l'asticella sempre più in alto ottenendo risultati sempre migliori questo è davvero qualcosa di cui andiamo molto fieri dopo e per ultimo louis hamilton il ritiro di toto non so chi potrebbe sostituire wolf è un leader ma ad ogni modo non avrà alcuna influenza sulla mia decisione io non so nemmeno se sarò qui l'anno prossimo quindi al momento la decisione di wolf non mi preoccupa personalmente mi sento benissimo nella squadra sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie aspettiamo e vediamo ragazzi allora per questo post gara è tutto io come sempre vi ringrazio per l'avevallo visto se vi è piaciuto date like iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana con il prossimo gran premio ciao